Agente, ci sono dei segnali di soccorso. Un momento... Santo cielo, di che colore? Ah, scusa. Sì, ti invio le coordinate della richiesta di soccorso. Stai facendo un ottimo lavoro. Siete meno? Siete morti! Attenzione! Siete morti! Cazzo! Ma cazzo! Spero che non sia impiannabile. Sfruttano il fuoco di soppressione! Incredibile! Ricordate perché siamo in cuore! Fermate le fiamme! Da dove sono sbocato? Un cediale. I bersagli si spostano dietro i ripari. Finitelo! Noi non c'errò! Treballare! Rissate! I'impermissi! E'icari! L'impermi queste! Rissate! Curi... Ru... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Un momento per il carico! 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 Bel lavoro! Un momento per il carico! 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 Un momento per il carico!